Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4 in cui vi farò vedere esclusivamente la modalità camera in prima persona cliccando il tasto shift e contemporaneamente tab non so se avete riconosciuto, se avete capito da chi sono ma sono nella mia partita personale, ovvero da Alison Cooper perché volevo provare queste cosette proprio con lei e la prima cosa che volevo fare era proprio farle mettere gli auricolari con la musica e farla vedere mentre fa joking ragazzi, pura poesia, bellissimo mentre fa joking avete visto che si intravedeva il cappuccio come in questo caso si vede il maglione ecco lì non ci possiamo fare niente, non si può togliere quella cosa comunque volevo anche provare a spostarmi all'interno di casa e come vedete devo fare punta e clicca a terra per decidere dove andare oppure quello che deve fare come in questo caso scaldarsi al caminetto oppure cliccare sul forno e decidere cosa preparare, cosa farle cucinare mi piace il fatto di essere proprio vicino a lei quando cucina, vedere proprio tutto quello che fa attraverso i suoi occhi cioè questo è veramente come vede il sim il mondo o quello che gli facciamo fare noi e ho scelto varie cosine interessanti da far vedere varie clippette carine come vedete è anche molto sensibile perché giustamente il sim si muove io posso con il mouse gestire la visuale però è talmente molto sensibile vedete lei come fa i spostamenti che allora il mal di mare non mi viene per carità però ballottola molto io non so se per i video macinima o per... eh sì, non so se saranno molto utili come ho detto nel video recensione la userò perché comunque è una cosa sfiziosa però la userò ecco in determinate scenette carine come magari vi farò vedere più avanti ehm... piccole scenette proprio perché è bello vedere magari l'espressione che fa in un sim in determinate occasioni vedelo proprio zoomato sul davanti e... e allora sì con questa modalità potete prendere il controllo anche degli animali infatti in questo caso sono il cagnolino e sta correndo come un pazzo non potete controllarlo voi potete soltanto guardare attraverso i loro occhietti basta che sulla tastiera eh... cliccate i tasti direzionali avanti e indietro in questo modo cambiate il sim di unità familiare anche gli animali adesso sono un gatto e mi ritrovo qui sulla lettiera mi vedo questa bellissima immagine in primo piano del regalino che ha fatto poi se ne va via mi sono voltata e vedo che la lettiera insomma fa sparire la cacchina cioè... è fortissimo vedere anche sotto forma di questa prospettiva il fatto che vedete qui i due gattini anzi Felix e una delle gattine ci sta giocando quindi vedete i movimenti poi come sono? eh... sono molto veloci molto... comunque ragazzi ve lo dico non ha minimamente influito sulle prestazioni del computer è molto fluido il video ovviamente ho fatto anche catturare le piume dal piccione volevo vedere questa interazione adesso le porto in casa comunque come vedete è molto fluido non è lento è proprio veramente come il tasto tab dopodiché oh... guardate qui l'interazione per fare l'angelo di neve ragazzi io sto guardando il cielo quindi è bello ecco nei video ma ci animo a far vedere lei che si butta nella neve e poi prendere questa immagine e vedere l'alto se ci sono le stelle se è sera se c'è un tramonto il fatto di vedere l'espressione quando si getta la neve sul volto dare un bacio ecco queste sono tutte immagini carine che uno può sfruttare tranquillamente nei gameplay il bacio sulla guancia poi anche adesso sono con gli occhi di Sebastian il bacio sotto al vischio cioè vabbè troppe troppo troppo carino vedere poi ellison così vista da vicino è troppo tenera dopodiché ho fatto anche la guerra a pale di neve perché volevo vedere insomma le espressioni cui ellison non ci ha preso infatti mentre Sebastian presa il primo colpo l'ha fatta cadere poi lei è scappata ci ha fatto le smorfe cioè vedere davvero con gli occhi del sim è divertente ribadisco non per farlo sempre cioè noi lo faremo sempre questa cosa però avere una nuova funzionalità in più è carina è comunque carina ok provate queste cose ho voluto anche portare il cane a fare una passeggiata e adesso prenderò i suoi occhietti quindi con la freccetta sulla tastiera mi sono spostata fino a che ho beccato l'animale giusto perché appunto ve l'ho detto non potete decidere voi e in questo caso lui ha la felpetta con il cappuccio infatti noi intravediamo il viso in questo modo e va bene come vedete anche nel clip precedenti io ho eliminato il quadro controllo del sim ritornando alla clip precedente in questo caso se io volevo dare un bacio a Sebastian in quella modalità non potevo cliccare su di lui mentre ricliccando il tasto tab appare quel tondino quindi io posso dare il comando riclicco tab come vedete pulisco la schermata quindi per esempio nei video Macinima è più bello così che non far vedere tutte le cose riguardo il sim poi ho voluto provare l'entrata in doccia ditemi che non sono l'unica che sta provando queste cose che forse potrebbero sembrare agli occhi degli altri anche delle banalità però io volevo sperimentare tante cosettine in questo caso la doccia poi ovviamente ragazzi il fichi fichi quindi ho preso Sebastian e è censurato ragazzi quindi anche se noi entriamo in questa modalità i sim sono fermi immobili tipo con gli occhietti chiusi e aspetto insomma alla fine per forza deve essere censurato è comunque un peggy 12 non dimentichiamocelo non so se anche a voi ha fatto questo piccolo bug perché io spero sia un bug ma i soffitti sono blu cioè sono neri come se appunto mancasse qualcosa e spero che lo risolveranno comunque ho provato poi anche l'interazione ai videogiochi vedete io posso anche zoomare con la rudellina del mouse posso avvicinarmi posso ruotare la testa vedere cosa ho intorno eccetera si vede appunto il joystick lei che sta giocando un bello zoom sulla gattina ah comunque per chi se lo stesse domandando visto che vede sebastian qui accanto ad ellison si hanno iniziato a convivere insieme ma di questo ne parleremo in un prossimo aggiornamento quando avrò un pochino di tempo per giocare un po' di più poi ve lo farò uscire ho provato anche il tappetino dei videogiochi e lei sta giocando a blocco oblique quindi sono proprio all'interno di questo cosetto e siamo arrivati alla fine di questo piccolissimo video io volevo assolutamente sperimentare queste varie cose che avevo in testa tra cui ovviamente c'era anche il fichi fichi ma me lo aspettavo il fatto che fosse censurato ma è giusto così altre cose poi sicuramente le farò durante i vari gameplay perché poi vengono in mente dopo anche no? tipo vedere la sim che scrive sul diario quindi vederla dal frontale il fatto che dipinge l'abbiamo visto tramite la recensione quindi video precedente a questo e tante interazioni anche con le persone vedere le espressioni insomma considerazioni finali è una bellissima novità è una modalità che userò a mozzichi un po' come tab perché appunto voglio enfatizzare soltanto alcune scenette tipo voglio fare un video in cui la sim fa joking mi piace magari alternare il fatto che vediamo lei fare joking e poi proprio dai suoi occhi come sto facendo in questo caso e così via quindi promossa ben accettata anzi sono sempre ben accettate queste novità e penso che col tempo ne avremo sempre sempre di più questo di sims 4 sta diventando migliore sotto ogni punto di vista ovviamente è il mio punto di vista fatemi sapere sotto nei commenti voi cosa ne pensate ci rivedremo nei prossimi video tanti mi piace e commentini ciao ciao